questa foto è presa nel 45 e c'è mio nonno giua che era uscito nel 43 da 9 anni di carcere con me appena nata avrà avuto 23 mesi e subito prima della fine della guerra ancora una foto durante la guerra sfogliare gli album album di fotografie poi le fotografie di un tempo sono piccolissime quindi bisogna avere anche una buona vista molto spesso non identifichi tutti i personaggi ti sembra che se non identifichi qualcuno stai perdendo un pezzo prezioso del passato quindi fai di tutto per cercare di identificarli poi per esempio li riconosci in questo è un album per esempio della famiglia foa mia nonna giua non teneva album a molte fotografie in casa ma pochi album se in qualche modo si trattava di rivivere dall'interno attraverso la mia memoria di piccola e poi anche di adulta fino ad oggi è un percorso che era un percorso che ha delle caratteristiche essenzialmente politiche il percorso della sinistra sostanzialmente grazie a tutti Grazie a tutti.